Ciao ragazzi, bentornati su questo canale fatto di approfondimenti sui temi dei droni e delle nuove tecnologie. Su vostra richiesta oggi vi parlerò di un vero e proprio tutorial dedicato al DJI Mini 4 Pro. Un drone veramente molto completo nonostante il fatto che pesi meno di 250 grammi e dotato di tantissime funzionalità automatiche che vi andrò a spiegare appunto nel corso del video e anche di un rapporto direi qualità prezzo decisamente molto valido. Quindi seguite il video fino alla fine ma soprattutto se non avete già fatto ricordatevi di iscrivervi al canale in modo tale da darmi la possibilità di condividere sempre di più questi temi con una platea ampia. Grazie e iniziamo subito. Innanzitutto eccolo qua, io ho acquistato anche una case con cui posso trasportarlo facilmente durante i miei viaggi e i miei video che ritengo molto carina ed è la StarRC di cui vi allegherò il link qui sotto se siete interessati all'acquisto. In questa parte qua ci metto sempre il manuale utente, l'assicurazione e eventuali certificati che ho e poi degli slot dedicati in cui si possono inserire il radiocomando, il drone, il caricatore delle batterie, il cavetto per la ricarica e nel mio caso ho preso anche questi filtri della Firewell molto molto validi. Il drone come vi dicevo è molto leggero, ha un peso inferiore ai 250 grammi ed è classificato già come categoria C0 ovvero ha la possibilità di volare sostanzialmente in tutte le zone consentite dalle mappe di flight e non richiede il patentino A1-A3, quindi non richiede particolari certificati per il volo. Ora vi faccio vedere il drone come è fatto e vi parlo di quali sono in sintesi le sue caratteristiche principali. Beh innanzitutto il drone ha, devo dire la verità, una forma che è un po' bruttina nel senso che in questo caso DJI non si è preoccupata più di tanto di curare l'estetica ma ha con il DJI Mini 4 Pro risolto un problema che era caratteristico del DJI Mini 3 Pro ovvero quello della omni direzionalità dei sensori. Per fare questo come vedete ha lavorato su questa parte anteriore del drone in modo tale da allargare a 45 gradi il posizionamento dei sensori anteriori e al tempo stesso ha inserito due sensori posteriori anch'essi leggermente inclinati in modo tale da avere una visuale tutto tondo per la parte posteriore. Infine sotto abbiamo altri due sensori che rendono così il DJI Mini 4 Pro un drone omni direzionale. Le caratteristiche principali di questo drone sono il fatto di avere un sensore CMOS da 1 su 1,3 pollici, questa è una caratteristica molto importante di questo drone, anche l'apertura focale di 1,7 pollici e questo rende veramente questo drone un drone molto 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 interessante perché fa degli ottimi video anche con bassissima luminosità. È in grado di fare dei video HDR a 4K 60 frame per secondo, ha una durata della batteria di circa 30 minuti. Fa delle foto in formato RAW a 48 megapixel e vi assicuro ragazzi che sono delle foto ad altissima risoluzione e che poi appunto con il formato RAW possono essere anche modificabili qualora ce ne fosse la necessità. È dotato di diversi funzioni automatiche come il Master Shot, il Quick Shot, l'Hyperlapse, il Panorama e non per ultimo è dotato di alcune funzionalità automatiche di gestione del drone durante il volo quale il Vision Assist, il Waypoint, il Return to Home avanzato, inoltre può anche essere pilotato con gli occhiali a visione diretta. Bene, ora che vi ho descritto le caratteristiche principali del DJI Mini 4 Pro, vi faccio vedere anche come lo utilizzo io e poi vi parlerò di alcune funzionalità automatiche importanti che ha in modo tale da fare un vero e proprio tutorial completo quindi di nuovo seguitemi fino alla fine. Bene, questo qui è un tool che io ho acquistato su Amazon, vi lascio il link poi sotto nel video, che a mio avviso è molto interessante perché protegge il radiocomando da qualsiasi urto o accensione e possibilità di rovinarlo in maniera accidentale. Infatti con questa cover, che non dà nessunissimo fastidio perché comunque le antenne si possono, come vedete, aprire qui dietro, è possibile gestire il radiocomando e anzi questa parte qua fa anche un po' da protezione dal sole quando lo si utilizza. Quindi è molto interessante e vi lascio il link qui sotto se lo volete acquistare su Amazon. Altra cosa molto interessante, io ho preso il drone DJI Mini 4 Pro senza il pacchetto Fly More Combo, quindi però mi sono dotato di un caricatore di cui vi legherò il link per l'acquisto su Amazon qui sotto, che è molto utile in quanto è un caricatore con potenza di 30 watt e quindi è in grado di caricare il drone, pensate, in soli circa 20 minuti. Quindi quando vado a fare dei video fuori sostanzialmente lo carico prima e se poi magari mi fermo un attimo in un bar o in un ristorante a mangiare qualcosa, lo attacco, in 20 minuti è pronto, ora che ho finito di mangiare ho di nuovo il drone carico. Ultimo sono i filtri della Firewell, ma penso che li conosciate già e vi allego anche di questo il link nel caso vogliate acquistarli. Bene, passiamo ora alla parte pratica di questo video in cui vi farò vedere in volo le funzionalità principali e come le utilizzo io per fare dei bei video ad effetto. Ed eccoci qua, iniziamo con una delle prime funzionalità automatiche ovvero il Master Shot. Il Master Shot lo si seleziona dal menu principale attivandolo, dopodiché si marca il soggetto che si vuole andare a osservare e poi in automatico schiacciando invio il drone regola la propria posizione e fa la ripresa che stiamo vedendo. Come potete vedere esegue tutta una serie di manovre intorno al soggetto che abbiamo selezionato e guardate che risultato che ne viene fuori. Stupendo. Ora esegue un cerchio da lontano. Guardate che bello il paesaggio intorno a questo duomo. Qui si può vedere zoomando sulla cartina anche il tipo di percorso che andrà a fare. Ora fa un pitch up volando in avanti e quindi vediamo sollevare la videocamera mentre avanza. Ora invece farà un altro cerchio però più vicino probabilmente qui sta facendo anche uno zoom a quanto pare sul soggetto. ora fa un cerchio medio. con lo zoom e infine una ascesa bellissima anche questa immagine molto ad effetto soprattutto se la si fa vicino al punto di riferimento a poi c'è anche la fotocamera giù e volo in avanti quindi osserva in sostanza tutto il panorama vediamo ora fotocamera giù e cerchio ok così finisce bene andiamo ora a vedere invece come funziona il quickshot il quickshot ha tantissime sottocategorie di riprese ne vediamo alcune ora anche in questo caso si seleziona il soggetto da inquadrare e lo si fa partire la prima è una ripresa ad allontanarsi con la videocamera che si alza un poco alla volta e come vedete poi il drone torna sempre di nuovo nella sua posizione di partenza vediamo ora la seconda tipologia di quickshot ormai l'avete capito la funzione l'attivazione è sempre la stessa si clicca sulla funzione si clicca in questo caso su ascesa il soggetto e poi lo si fa partire vediamo ora la modalità cerchio ovvero selezionato il soggetto il drone inizierà a ruotare intorno al soggetto selezionato in questo caso per chi ha un drone dotato di sensori omnidirezionali non si deve preoccupare più di tanto degli oggetti che gli stanno intorno ovviamente uno sguardo non fa mai male mentre chi non ha un drone omnidirezionale sempre bene stare molto molto attenti in questo caso è solo interrotto tanto avete capito come funziona ultima funzionalità è il cerchio concentrico la spirale e anche questo è un tipo di ripresa a grande effetto dal mio punto di vista guardatelo un po' sempre sull'inquadratura del duomo attenzione Bene, ora voglio farvi vedere quella che secondo me è una figata assoluta, ovvero la funzionalità dell'hyperlapse. Provo a farvelo vedere accelerando il video. Beh, niente male direi, ma adesso andiamolo a vedere ad esempio con un altro soggetto che a mio avviso può rendere ancora di più il risalto di questo tipo di funzionalità. Ora ruoto il drone, lo provo a puntare sul castello che c'è in cima a questa collina. Purtroppo io al momento ho ancora il DJI Mini 4 Pro limitato a 120 metri di quota, per cui non posso andare più su di questa quota, però vi faccio vedere il bellissimo effetto dell'hyperlapse fatto appunto su queste riprese. Guardatelo voi. Bene, mi auguro che il video vi sia piaciuto. In tal caso se non avete già fatto mettetemi un like e mi raccomando iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina. In questo modo avrete la possibilità di essere aggiornati su tutti i nuovi video che faccio. Ciao e a presto!